Edificio risalente al 1573, già monastero delle Clarisse, riconvertito all'inizio del XX secolo in parte a scuola e in altre parti adibito anche a carcere, l'immobile di grande pregio artistico e architettonico per Casa Massima è sottoposto a lavori di recupero finanziati dal Ministero per lo sviluppo economico per circa 685 mila euro. Il monastero di Santa Chiara rappresenta un po' la storia del nostro paese, fino agli anni 80-90 era un luogo anche molto vissuto dalla nostra comunità, poi è andato in malora. Stiamo cercando di recuperare la nostra storia ma stiamo anche cercando di tutelare il nostro presente perché qui si sa che vengono a nidificare i farchi grillai, una razza di uccelli molto particolare che è molto legata alla nostra comunità. Nel blocco A i lavori sono già terminati dove verrà già un museo a piano terra, i lavori sono quasi terminati, non totalmente, mancano gli ultimi dettagli. Mentre adesso partiranno i lavori per restaurare la parte esterna, questo atrio molto singolare, molto bello, e tutta la parte del blocco B. Rappresenterà il futuro della nostra comunità, un luogo di aggregazione, un luogo in cui poter coltivare la cultura, l'arte, la nostra storia, le nostre tradizioni.